Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video oggi siamo qui con spacchettamento dell'album di maggio non abbiamo più numeri quindi inizieremo a chiamare appunto l'album con il nome del mese ovviamente allora qui ci sono un sacco di prodotti solari e quindi dovrebbero esserci anche una borsa e una trousse sicuro però il pacco è molto piccolo quindi andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno appunto ok 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 dovrebbe esserci tutto allora innanzitutto come vi avevo già detto su instagram questo lo spostiamo come vi avevo già detto su instagram ho ordinato un sacco di prodottini per me perché un po' le novità o un po' le cose che mi erano terminate ho voluto assolutamente prendere qualcosa anche per me allora iniziamo dai solari allora qui abbiamo ecco questo l'avevo acquistato anche per me oltre che me l'aveva acquistato una cliente infatti dovrebbe essere questo qua che è il trattamento per il viso 50 più perché sapete benissimo che le macchie sul viso devono essere sempre protette dalla crema solare per non farsele venire quindi se avete tipo dei brufoli mettete sempre la crema che va dopo tutta la skin care la crema ovviamente con protezione solare così che le macchie non si cicatrizzano sulla vostra pelle quindi questo l'ho ordinato per me e anche anti lucidità anche se la protezione solare è molto alta quindi è top secondo me non l'ho mai provato in verità perché avevo provato solo questo normale e questi invece sono due prodottini che mi ha ordinato la cliente questo anti lucidità invece questo dovrebbe essere sì esatto anti età quindi speriamo bene lo voglio assolutamente provare già oggi perché oggi è una bellissima giornata quindi dopo l'andrò a mettere poi ovviamente non potevo non provare la nuovissima schiuma diciamo infatti l'erogatore in questo modo qua e la proverò subito tra poco o stasera non lo so sono veramente molto molto curiosa di vedere come strucca quindi non so quando anzi come deterge il viso diciamo diciamo bene così e sono veramente molto curiosa infatti appena potevo l'ho subito ordinata e questo ovviamente è una nuova uscita poi qui abbiamo un profumino questo me l'ho ordinato una cliente che utilizza solo questo e ogni volta che c'è uno sconto o che anche quello grande sta in sconto me ne ordina sempre uno sia di piccolo che di grande e questo invece è l'evidenza normale che anche questo stava in sconto perché stava tipo 27 euro e qualcosa e quindi mi ha acquistato anche questo profumino qua qui abbiamo le bustine con all'interno alcuni soliti campioncini e le ricevute qui invece abbiamo l'album di giugno che bello non mi aspettavo in verità che arrivasse pensavo che ancora era troppo presto invece sono contentissima che sia arrivato sì la cliente mi aveva ordinato anche questi due solari questo anzi è un dopo sole ecco non mi veniva la parola e questa invece è una crema corpo protezione 30 quelle piccoline perfette anche per il viaggio quando si potrà tornare a viaggiare questa è una matita per le sopracciglia quella che è temperabile nella colorazione 04 brown brun invece sempre la stessa cliente dei solari mi ha ordinato anche il fondotinta nella colorazione beige 200 questo qua super matta poi non potevo non provare l'acqua profumata questa qua anzi l'acqua profumata l'acqua lenitiva che teoricamente fa anche da tonico e siccome avevo terminato appunto il tonico invece di andare a prendere uno dei pochi tonici l'avevo chiesto anche su instagram che sono rimasti sotto questo nome sono andata a prendere appunto l'acqua questa qua lenitiva perché quella purificante non ci avrei fatto molto perché mi serviva qualcosa di idratante e quella la camomilla non lo so ho voluto provare questa qua per iniziare e poi qua dietro abbiamo qualcosa di make up allora io mi sono ordinata le pinzette perché me le sono perse e mi piacciono tantissimo come tolgono i peli queste qua e quindi me la sono riordinata poi una cliente mi ha ordinato sempre per la pochette della borsa la terra nella colorazione 01 e l'eyeliner questo qua dovrebbe essere non ci sta scritto se è matto o brillante e quindi non lo so comunque il codice è 95928 erano quelli che stavano in sconto per prendere appunto la pochette spero di non far cadere nulla e qui invece ci sono due campioncini che vanno sempre per i prodotti make up tra cui la matita per le sopracciglia e il fondotinta questi qua erano il regalo che darò sicuramente alle clienti e poi qui per terminare allora abbiamo due album di maggio e qui abbiamo la borsa ma non c'è la pochette allora la borsa è veramente grande adesso ve la faccio vedere è così però la pochette non c'è quindi adesso controllerò meglio ma mi sembra che teoricamente si poteva prendere sul pop up anche con questi due prodotti make up che stavano comunque appunto sul pop up quindi devo andare a controllare comunque lo spacchettamento è finito vi mando un grande bacio vi aspetto su instagram per vedere in azione tutti i prodottini che ho acquistato per me vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao